Allora perché hai il tuo posto? Siamo a posto, tranquilla, prima che abbiamo venuto, però vabbè Poi tipo, camminando al giudicino, qua e là, ho perso l'altra scuola, mi entro, guardo con l'esterno, fai un po' E mi sono scordata che là ti ricordi un lungo, un po' enorme Io ho visto tipo Gate, non mi ricordo quale, tipo camminando circa 12 minuti Sì, sì, sì Ho cominciato a correre, la gente tutta via, si gira, io ho, oh madonna come ha corso Mi mancava il fiato, quando sono ruana, e loro tipo già smontavano appunto, era tipo chiusa Ho detto, oh, per favore, tipo, prismi, no, no, niente, 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 niente Ma, no, ma, no, e basta, è finito, non so che faccio, non so che sentire, sto qua Dico, no, non, non è farlo Eh, va bene, dai, giusto perché ancora sei in tempo, ultimi minuti Dico, oh grazie Guarda, salgo su suoi, mi forza, proprio così che mi ha detto stai, prendete pure il posto, mi sono sentita, c'era il posto vicino a sé che mi riuscite, sicurezza, no disperdivi, emergenza, e lui mi dice, eh signorina, potrebbe aiutarmi, sì, tutto quello che vuole, un attimo che devono riprendere il piatto, non ne lo scordo mai questa torsa, Ma sì, tutto la sera, va bene, nuovito da prendere il punto per la macchia, non ti sono tornata a casa, grazie, Si era appena cambiando il futuro il seno, si era appena cambiando la sala, la ricorda è, ah, ah, buono! Grazie a tutti. Grazie a tutti.